Vi faccio vedere in anteprima, lei che mi vuole rubare la scena, ma no, perché la scena è sua, una giacca che sta per uscire con Sol. Quanto è figa da 1 a 10? Quanto? Comunque Sol ha traslocato, vi porto dietro le quinte. Ciao Kim! Lei è la nostra super modellista che fa tutti quanti i modelli, lì c'è un'altra ragazza che sistema, lì sono tutti i tessuti nuovi e vecchi, qui siamo in fase di trasloco, anche di qua ci sono le nostre sartine che stanno preparando tutta la nuova collezione per voi, e come vi dicevo siamo in fase di trasloco, quindi ancora un po' caos, disordine, c'è un disastro, però non possiamo fermarci e stiamo continuando a lavorare per voi. Guardate che bello, qui stiamo definendo gli ultimi modellini, con Kim. Comunque Sandra, ha in mano Sandra, Bordeaux, il raso e Foxy il raso, me le sono venute a prendere perché ci tenevo, perché è il mio pezzo preferito. e... quanto sono belle? Perché voi dovete sapere che adesso Sol, per l'invernale, sta facendo la doppia treccia su ogni capo, ma queste trecce vengono intrecciate ogni giorno a mano da una signora che con tanto amore e pazienza si mette qui a farle. e... 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 e...